E' Giana! E' Giana! Grazie mille, grazie di tutto, veramente grazie mille. Grazie a te. Grazie, grazie. Oh, vi facciamo un applauso per Verdiana, che ha fatto un concerto e che ha spaccato il culo. Grazie. Ciao, tesoro. A dopo. Ci sono come un qualche problemino, Calabria. Non ci vedo bene, è troppo. Io non ci sono più, non ci vediamo più. E ho lasciato a lei, giustamente. E' stato un grande onore. Andiamo avanti. Questa è una canzone che ha scritto l'autore di Vasco, che per chi mi segue è stato il mio più grande idolo in assoluto. Sono stata a vederlo a Roma, ragazzi. Che figata. Non ho neanche cantato, sono state tipo la birra. Io non si beve mai, io non bevo. Cioè, non sono riuscita a spiegare parola, non so la sua età, dove trovo tutta quella volta. Davvero complimenti, è uno fortissimo. Andiamo avanti con... Con? Sono Miraco. Come vuole tornare a casa? Come vuole tornare a casa? Allora, non è che ci sono accettate.